Più di cento alunni alla scuola elementare Tomaselli dopo tre anni si trovano senza un'aula dove svolgere le lezioni. Dal 2010 infatti gli ultimi piani del loro plesso scolastico sono stati dichiarati inagibili dopo le continue infiltrazioni d'acqua. Il dirigente scolastico ha tamponato questo lungo periodo di disagio spostando le ultime classi elementari al liceo internazionale di Piazza Alcide De Gasperi. Questo istituto affidato gli dal comune dopo un controllo dell'ASP e dei vigili è stato dichiarato anch'essi inagibile. Di fronte all'accaduto i genitori si sono riuniti davanti alla scuola di via Abruzzi per chiedere una soluzione immediata che garantisca la sicurezza e il diritto allo studio. In questo momento ci ritroviamo con le aule dell'internazionale che ospitavano i nostri bambini delle quarte e delle quinte, in totale otto classi, che si ritrovano senza aule e che quindi in questo momento non hanno garantito il diritto allo studio perché oggi sono tutti a casa. Oggi pomeriggio si svolgerà un consiglio di circolo qui a scuola dove si affronterà il problema ma la prima voce che è venuta fuori è naturalmente la più semplice, quella dei doppi turni che coinvolgerà inizialmente a quello che si è capito soltanto le classi che stanno subendo questo disagio ma che si allargerà a tutte qualora non si ritrovasse una soluzione. Chiediamo l'intervento della parte politica, degli assessori all'edilizia scolastica e anche alla pubblica istruzione e nel contempo di prendere anche in considerazione la possibilità di avere delle aule anche dei plessi scolastici e delle scuole medie qua vicino che parrebbe essere una soluzione più pratica se ci sono delle aule da poter adibire per l'istruzione ai nostri figli. Grazie a tutti.